Che emozione! Che emozione grande! E allora? E basta con tutto questo rumore! La smettiamo sia o no di fare il cinema? Cosa legge? E' questo? Cimino! Dlim dlm! Signori, signori, il capo stazione che vi parla Il treno regionale 0001 diretto Brecca è in arrivo al binario 1 Il corpo civico musicale di Bariano presenta Il film di una terra Vi accompagneremo in un'entusiasmante avventura Alla scoperta delle nostre magnifiche province Bergamo e Brescia Uno spettacolo musicale scritto e pensato come un viaggio Passando nei paesi bergamaschi fino ad arrivare in terra bresciana Attraverso immagini, battute, film e tanta musica Me ta copet! Ma è stata una sua idea! Dentro me! No! 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 Me va copetitù e sema posti! No! Fermi! Ave Maria! Ora pronobis! Pace mi terris! Pace mi terris! Pace mi terris! Secondo la grande tradizione di Arlecchino Sappiamo anche ridere e far ridere L'appuntamento è per domenica 23 luglio Alle ore 11 su TeleStella Alla scoperta! 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 Alla scoperta!